Sfatiamo oggi le fake news che tanto mi fanno arrabbiare sul colpo di calore. È già dall'anno scorso che girano bufale sul trattamento del colpo di calore nel cane e io che faccio divulgazione sui social sono arcistufa di vederli girare. La bufala in questione è questa. Questo è solo uno screenshot, ovviamente ce ne sono tantissime altre perché poi è stata copiata e incollata ovunque, dove si consiglia di raffreddare il cane in colpo di calore gradualmente, lentamente, con l'acqua tiepida e addirittura dargli da bere. Ora, tutto ciò è assolutamente sbagliato e fa dei danni perché girando e diventando virale porta tutti voi proprietari ad agire nel modo sbagliato quando il colpo di calore in realtà è una delle poche emergenze in cui veramente voi potete fare la differenza fra la vita e la morte del paziente. Dare da bere dell'acqua tiepida, raffreddare il cane gradualmente, bagnando i polpo astrali, le zampe, l'addome basso, sono c***o! E c***o il termine tecnico in questo caso perché non si può dire altrimenti quando queste procedure rischiano proprio di uccidere il cane. Il colpo di calore nel cane fa parte di una di quelle emergenze che voi proprietari dovete saper gestire a casa perché le linee guida sono molto chiare a riguardo e parlano di raffreddare il cane in maniera efficace prima di portarlo dal veterinario. Quindi voi siete fondamentali. Per colpo di calore si intende una temperatura corporea superiore ai 41 gradi con un cane che sta evidentemente male, quindi è agonizzante, sta boccheggiando, è in polipnea, a volte collassa addirittura e stiamo parlando di un'emergenza che deve essere risolta, quantomeno stabilizzata, in pochi minuti. Ogni minuto è prezioso. Non si può aspettare di andare dal veterinario oppure nello stesso tempo fare manovre completamente sbagliate. La cosa giusta da fare è raffreddare il cane in maniera aggressiva con acqua fredda, ok? Il più freddo possibile. Poi c'è stato uno studio che ha dimostrato ovviamente che anche l'acqua di rubinetto se si ha solo quella a disposizione va benissimo che comunque l'acqua di rubinetto viene considerata fredda se paragonata ai 41 gradi della temperatura corporea. E no, ve lo dico già, non c'è nessun shock termico, nessuna vasocostrezione che porta a coagulazione del sangue. Si fa una grande confusione fra gli effetti del colpo di calore e gli effetti invece del raffreddamento. È il colpo di calore stesso che porta a coagulazione intravasale disseminata, quindi a coagulazione del sangue, non il raffreddamento. Questa diceria che è il raffreddamento a portare la coagulazione del sangue è totalmente sbagliata. Addirittura se avete del ghiaccio a disposizione si può utilizzare. Non solo, un'altra cosa che si può utilizzare è l'alcol. L'alcol etilico, quello classico, quello da pavimenti. Ovviamente non sulla testa perché non deve entrare a contatto con le mucose, ma pancia, gambe, interno coscia. Si può usare anche l'alcol perché evaporando più in fretta dell'acqua aumenta il raffreddamento corporeo. D'altra parte queste sono le indicazioni che si usano anche nei bambini con la febbre alta. Immergere in acqua fredda e bagnargli con l'alcol nell'interno delle cosce, nell'interno delle braccia, quindi in tutte le zone in cui si può utilizzare l'alcol. Ancora una volta tutte queste cose che vi dico non le penso io, non è il mio parere perché sono un medico veterinario, allora vi dico queste cose perché le penso io. No, c'è la bibliografia scientifica che ha studiato l'argomento nel dettaglio, essendo un argomento di grande interesse anche per l'uomo, la bibliografia è molto ampia, visto che anche gli uomini vanno in colpo di calore, chi lavora sulle strade, sulle autostrade, gli atleti che fanno sforzi durante la stagione calda, è un argomento molto importante e viene quindi poi trasposto anche nel cane e nel gatto. Il gatto non va in colpo di calore come il cane spontaneo, il gatto va in colpo di calore solamente se chiuso in macchina o chiuso in un ambiente caldo, questo perché il gatto non è obbligato a seguirci nelle nostre attività quotidiane. Il cane invece sì, il cane va in colpo di calore spontaneo o perché non respira bene e quindi non riesce a scambiare diciamo calore con l'esterno perché ad esempio è un brachicefalo, quindi tutti i brachicefali con la baos conclamata, oppure perché deve seguirci nelle nostre attività, quindi magari decidiamo di portarlo in centro a fare una passeggiata con 42 gradi all'ombra e quindi va in colpo di calore, ok? Quindi il cane purtroppo, dovendoci seguire, è più esposto a questo pericolo, un po' come noi uomini che siamo obbligati a fare delle attività col caldo. La bibliografia ovviamente ve la lascio in descrizione se la volete consultare. Sono stati fatti tanti studi sperimentali anche sul cane, inducendo il colpo di calore nei cani, lo so che molti si scandalizzano da questa notizia, ma la sperimentazione animale è una realtà purtroppo, quindi cani sono stati presi, indotti il colpo di calore e sono stati ovviamente testati i vari sistemi di raffreddamento. Quindi diciamo che la bibliografia è veramente molto molto accurata e i metodi di raffreddamento più efficaci sono in assoluto quelli più aggressivi. Addirittura il lavaggio intraperitoneale con acqua fredda, l'immersione in quella che viene chiamata granatina di ghiaccio, cioè ghiaccio tipo la granita, quindi proprio immersione nel ghiaccio, oppure acqua fredda anche perché tutti gli altri sistemi non sono attuabili in un primo soccorso sul campo. Primo soccorso sul campo l'unico metodo attuabile è l'immersione in acqua fredda o il bagnare abbondantemente con lo spinello, cioè col tubo da giardino per intenderci. Per mia estrema curiosità personale ho cercato anche di capire da dove nascesse questa bufola che tanto mi fa arrabbiare e ho trovato effettivamente un articolo abbastanza vecchio in cui si parlava di acqua tiepida perché in un esperimento dovevano differenziare l'acqua a 16 gradi, che viene considerata tiepida nell'esperimento, ma ovviamente l'acqua a 16 gradi non è tiepida, è fredda, però distinguevano l'acqua tiepida a 16 gradi dall'acqua fredda a 0 gradi dai ghiaccio. Quindi in questo studio davano questa nomenclatura e da lì qualcuno avrà letto quest'articolo, non avrà capito assolutamente nulla di quello che mi aveva spiegato e ha messo a lei, avete visto? Deve essere utilizzata l'acqua tiepida. No, l'acqua a 16 gradi, anzi l'importante è che l'acqua sia sotto i 18 gradi per essere più efficaci possibili. Ovviamente più è fredda meglio è, se avete il ghiaccio ancora meglio. L'articolo in questione è questo qui, ve l'ho tradotto in italiano e come vedete hanno indotto il colpo di calore in 40 cani a livello sperimentale e poi li hanno raffredati con vari sistemi e c'è questa dicitura acqua tiepida che però si riferisce ad acqua a 16 gradi appunto. Quindi da questo articolo penso, è solo una supposizione, sia nato questo caos lessicale e interpretativo, poi qualcuno ha pensato bene di farci un post su Facebook senza pur capire di cosa stava parlando. Purtroppo non capisco per quale meccanismo le notizie false girano più velocemente di quelle vere, quindi tutti hanno condiviso, condiviso, condiviso e adesso effettivamente il credo popolare è che col colpo di calore non si debba raffreddare il cane, che è veramente un controsenso proprio concettuale. Inoltre è importante ricordarsi che sono queste manovre, le prime manovre di soccorso, che salvano la vita al cane o perlomeno che aumentano le possibilità di salvare la vita al cane. Quindi tocca proprio a voi essere responsabili e a conoscenza delle giuste metodiche di raffreddamento. Fra l'altro il suggerimento di dare come per prima cosa da bere al cane è proprio frutto di un qualcuno che un colpo di calore non l'ha neanche mai visto, perché un cane in colpo di calore certo non beve. Vi ripeto che è un cane che è completamente incapace di fare qualsiasi altra cosa se non respirare in polipnea, cianotico probabilmente, quindi rimane in stazione o quadrupedale o a sfinge con i gomiti allargati e tutte le sue energie sono spese per respirare. Respirare per cercare di dissipare calore, molto spesso non funziona e può addirittura collassare e svenire. Quindi diciamo che sicuramente un cane in queste condizioni vi posso assicurare che non beve in nessun modo. Ovviamente voi per strada non girate con un termometro da poter provare la temperatura rettale al cane, ma come vi dico appunto i sintomi sono questi, sono sintomi esasperati di un cane agonizzante, poi se lo toccate è bollente, è al tatto estremamente caldo e respira a fatica e siete in una giornata calda, ok? Siamo in una giornata per i brachicefali dai 30 gradi in su di solito, per i cani normali dai 40 gradi in su, potete trovare un cane in colpo di calore così, diciamo con sintomi così estremi, non statevi a focalizzare sulle temperature, dipende anche che tipo di attività ha fatto fino a quel momento, però ovviamente il termometro non ce l'avete, dovete essere in grado di riconoscere il sintomo. Spero che questo video sia più condiviso delle bufale che girano, quindi aiutatemi a condividere le corrette informazioni e se avete delle domande scrivetemele nei commenti. Ciao!